Scattata la misura cautelare della sospensione dal servizio pubblico per sei mesi nei confronti di un 36enne catanese dipendente delle poste indagato per truffa, la procura distrettuale della Repubblica ha chiesto e ottenuto dal GIP del Tribunale Etneo il provvedimento che è stato eseguito dai carabinieri della stazione di Ragalna. Si sottolinea che non è ancora intervenuto il contraddittorio con l'indagato, tuttavia da quanto emerso dalle indagini il soggetto impiegato dell'ufficio postale ragalnese a settembre del 2021 avrebbe approfittato di una 43enne del posto inducendola a bersare 100 euro come mora non dovuta contestualmente al pagamento di alcuni bollettini postali. Le testimonianze degli utenti di altri dipendenti del medesimo ufficio hanno permesso di individuare la cattiva condotta del 36enne. Il dipendente delle poste è imputato anche per fatti similari perpetrati lo scorso anno ai danni di un anziano di Ragalna.